Ben ritrovati in un'ampia pagina dedicata alla volley in questa edizione di Azzurra Sport. Iniziamo con la presentazione. Ieri sera la pala Igor di Cristina Barcellini che torna a vestire la maglia delle Novarese dopo gli anni dell'Asistela. Cristina Barcellini, primo nuovo giorno da Novarese. Si può dire che oggi sei tornata a casa? Sì, sono molto contenta perché sono molto onorata di giocare qua. Questa è una società stupenda, ne parlano tutti veramente bene e punta in alto. Ovvio poi c'è anche il motivo che tornare a casa, comunque diciamo che in questo palazzetto conosco quasi tutti, mi fa molto piacere. Qual è questo bagaglio di esperienza che porterai a Novarese per dare una mano a raggiungere quelli che sono gli obiettivi poi stagionali? Sinceramente ancora non lo so, nel senso che ogni anno è sempre diverso, si imparano tante cose e ogni anno ce n'è qualcuna nuova. Cerco di dare il massimo e quando sarò chiamata in causa di fare quello che devo. Che ambiente e che clima hai trovato qui in palestra? L'allenatore soprattutto per te è una nuova conoscenza? Se devo essere sincera, già da stamattina ho visto che c'era un bel clima, tanta voglia di lavorare, mi hanno già detto che si lavora tanto e mi fa solo che piacere. E oltretutto un clima molto sereno dove si ride, si scherza molto ma allo stesso tempo si lavora e penso che sia una delle situazioni migliori per poi raggiungere i risultati. È anche una svolta a livello tuo personale, la stagione l'ha iniziata in Turchia e hai avuto un infortunio comunque sia complicato da superare agli addominali, giusto? Io in realtà all'inizio mi sono trovata molto bene se non dopo l'infortunio, ovvio questa per me adesso è una grande opportunità, nel senso che comunque in questo momento sì mi allenavo ma ero ferma e senza squadra, per cui è un bello stimolo. Hai seguito un pochino questa prima metà del campionato o che idea ti sei fatta? Di sicuro c'è il livello più alto che si è registrato ormai negli ultimi anni? Sì, mi sembra un campionato molto corto dove tante squadre se la giocano e anche le ultime possono dar fastidio alle prime eccetera. Penso che guardando all'inizio del campionato avevo un'idea diversa, adesso penso che Conegliano e la stessa Novara siano tra le preferite per una vittoria. Senti, per chiudere, domenica la tua prima partita con la Maglia Azzurra, giochi subito da ex, c'è Montichiari, che tipo di partita ti aspetti? È cambiata molto la squadra, però sicuramente sarà una partita importante per entrambe le formazioni. Sì, la squadra è cambiata, sono rimaste tra le giocatrici più lo staff, ma sinceramente penso che l'emozione più grande non è tanto perché è da ex, ma perché è per me la prima partita qua. Dalla volley di serie A a quello delle categorie minori nel servizio di Daniele Piovera. Il Palamanzini continua ad essere terreno scomodo per l'avversario di Altea in questo campionato. Il Fortino Verbanese regge l'urto e regala soddisfazione al team allenato da Alberto Franzini. Sabato scorso a pagare dazzi sono stati i cugini del GS Pavice Romagnano, che sono usciti sconfitti per 3-1 da Traversi e Compagni. Una vittoria importantissima per Altea, che guadagna altri tre punti e mette nel mirino le prime posizioni della classifica. Si parte con il sestetto titolare, Miani, Frattini, Borghini, Diera, Traversi, Martinelli e Fantacone. Altea con il due servizio limita l'utilizzo dei pericolosi centrali sesiani e con una buona difesa Miani scade il braccio dei propri attaccanti. Nel finale di set viene esposto Zinetti per proteste, Verbagna non ne approfitta. Sul 24-23 Altea due errori consecutivi ribaltano la situazione e alla fine i ragazzi di Mainardi chiudono 28-26. Ma Verbagna capisce che se la può giocare alla pari si riparte 4-0 Altea. Il Pavice fatica in attacco e non è incisivo al servizio e la pallavola al Ziora prende in largo. Mainardi inserisce Gallo per Riccino, ma Altea chiude 25-21. Secondo e terzo set sono identici con Altea che guida e Pavice in seguito a vicino. Diera e Frattini si esaltano in attacco. È proprio l'opposto verbanese che chiude 25-21 set e partita. Nelle altre gare di giornate la notizia è lo stop all'imbattibilità del volley Novara che ha perso 3-1 a Santia. Ocimiano ha vinto a Novara con Scurato ma solo al quinto set. Moncaglieri ha regolato in quattro set Quornier. Colpo esterno invece di Aosta a Chieri. Verbagna dunque ha sempre nel mirino il quinto posto, ancora di più. Dopo i due mezzi passi falsi di Ocimiano negli ultimi 15 giorni, due vittorie ma solo al quinto set contro penultima e ultima della classe. Ora invece il consueto punto del mercoledì con il volley della CSI curato da Gianluca Trentini. Vediamo. Il resoconto del volley CSI settimanale parte dal torneo Open femminile dove in testa c'è sempre il CSI Baveno. Ma dove le Dark Ladies Piedimulera devono sempre recuperare due match abbordabili. In calendario si è giocata la giornata numero 9 che ha visto la capolista a riposo. Piedimulera ha vinto facile 3-0 contro Coala Fontaneto e si è avvicinata a soli tre punti dalla formazione baventina. Venese che per la giornata numero 10, nella quale a riposare sono le Ossolane in casacca All Black, ha vinto 3-1 in casa delle sempre pericolose ragazze dell'Auxilium Villa. Curioso epilogo del match giocato a Cannobio tra Genius Bar Cannobio e Vega Occhiari Rosalziora. Quando si era sulla situazione di un 7-0 per le verbanesi di coach Andrea Franzini, un guasto all'impianto elettrico della palestra che ospitava il match ha portato alla sospensione ed al rinvio della gara. Nel torneo open misto invece la capolista Volley Ma Non Posso sfrutta nel miglior modo possibile il turno di riposo degli omenesi e dello Sporting Cock. La formazione vogognese di Stefano Scruzzi ha vinto 3-0 in casa dello Jung e Tifal ed è scappata via arrivando a contare 6 punti di vantaggio sugli omenesi che però come detto sono stati a riposo. Il team di volley di Verbania si mantiene terzo e col successo al tie-break in casa di Villa Volley a portata di tiro per gli omenesi del volley 0-2 che nella serata di domani affronteranno il fanalino di coda a misto Vogogna ed in caso di successo con qualunque risultato sopravvanzerebbero il gruppo lacuale del team manager Andrea Garegnani. Nei tornei giovanili rimane tutto invariato, domenica 22 gennaio torna il circuito provinciale CSI di Minivolley con la tappa organizzata a Vogogna dalla US vogognese. Inizio delle partite alle 10 e conclusione alle 16.30. Chiudiamo con la volley per aprire sul ciclismo. E' ufficiale Marco Della Vedova è il nuovo direttore sportivo della formazione bergamasca juniores del team LVF. Il mergozzese è anche spettore di percorso e membro dell'organizzazione sportiva di RCS Sport. Ha siglato ufficialmente un accordo con una formazione che si propone di essere da subito competitiva. Con Della Vedova passano al team LVF anche Samuele Rubino, cosa che era stata ampiamente annunciata già al termine della scorsa stagione. E con lui anche Fausto Barone. La presentazione del suo fan club nei giorni scorsi è stata l'occasione per fare l'appunto con Filippo Ganna della sua stagione. Come ti sei trovato nelle prime uscite, anche nei ritiri, con gente come, che ne so, Ruicosta, Tapuma, Guardini? Come ti sei trovato? Con Sonni che conosci bene e i tuoi ex compagni alla colpa? Ma con i miei ex compagni solitamente ogni volta che ci vedevamo era battaglia perché comunque sia come era l'anno scorso e è rimasto anche quest'anno. Ma la cosa più bella è rimasta essere in camera una settimana con Ruicosta e quando mi ha detto che casa sua è casa mia sono rimasto stupito perché non me l'aspettavo da un personaggio comunque sia così importante e tanta gentilezza e devo ringraziare anche lui per questa settimana perché è stato vicino, mi ha consigliato come lo stesso Guardini. Ci sono veramente tanti ragazzi che mi stanno aiutando tanto. Ecco Filippo adesso si va in Argentina e la tua prima esperienza ufficiale da professionista a tutti gli effetti. Come sarà il programma di corse di Filippo Ganna? Quali saranno i grandi eventi? Si è aperto la porta ma un po' di aria non ci dà fastidio. Ma di sicuro c'è anche una cronometro e lì cercherò di dare fondo al mio motore se poi io riuscirò a piazzarmi bene altrimenti tutta esperienza che viene. Vediamo un po' di dare una mano ad Alta Puma e Rui che faranno un po' i pilastri della squadra in questa spedizione e Guardini per le volate che ci sono ben 5 volate dove cercheremo di valere sopra gli altri. Durante l'anno quali saranno più o meno gli appuntamenti più importanti in cui Ganna dovrà correre in strada e ovviamente in pista perché sei campione del mondo e campione d'Europa? Su pista dovrò difendere il titolo che ho guadagnato e su strada ci saranno comunque sia campionati italiani a cronometro e altre gare importanti che dovrò stare lì e cercare di dare una mano comunque sia alla mia squadra. Per quest'anno tutto quello che viene è tutta esperienza e tutto il bagaglio che ho per il futuro. Nonostante una grande campagna di sensibilizzazione sui social, network Landroni Sidermac per il secondo anno consecutivo non ha ricevuto la wild card per raccorrere il centesimo giro d'Italia. RCS Sport ha ufficializzato le formazioni partecipanti alle proprie competizioni. Finiamo ora con gli sport d'acqua. Sabato 14 gennaio presso la sede CONI di Milano si è tenuta la premiazione dei migliori belisti della quindicesima zona. Una giornata diversa per gli atleti della squadra agonistica del Circolo Velico Canottieri Intra che hanno avuto il riconoscimento del CONI per i risultati ottenuti nella stagione 2016. Ci è stato Fabio Mazzoni, presidente zonale, a fare gli onori di casa e dopo una breve introduzione ha premato gli atleti che si sono contraddistinti nell'ambito zonale, italiano, europeo e mondiale. Premiato Gabriele Besozi, terzo nella categoria Laser Standard. Andrea Rivolzi, secondo nella categoria Laser Radial per i risultati ottenuti ai campionati europei mondiali. Lucia Nicolini per i risultati ottenuti ai campionati europei mondiali Laser.4 Pietro Langosto, primo Laser Bug Race e la piccola Aurora Pani, seconda al Laser Bug XS. Questa era l'ultima notizia della nostra Zurra Sport. Io mi fermo qui, vi lascio i programmi della rete, vi ricordo tutti gli aggiornamenti, tuttonotizia.info. Grazie, buon proseguimento. Grazie, buon proseguimento.